buongiorno a tutti dal canale trinacronline io sono giovanni e oggi andremo a fare il liquore di basilico allora subito gli ingredienti quindi 250 ml di alcol e 70 grammi di basilico questi i primi ingredienti ovviamente il basilico già lavato ed asciugato diamo una mescolatina lo schiacciamo di modo che l'alcol bagni tutte le foglie e chiudiamo ermeticamente a questo punto ci vediamo tra 48 ore perché la prima parte è finita 48 ore sono passate non preoccupatevi se vedete che ho cambiato il contenitore di alcol e foglie di basilico i nuovi ingredienti che servono sono 100 grammi di zucchero una bustina di vanillina 250 ml di acqua e dovete utilizzare un pentolino quindi metteremo l'acqua nel pentolino porteremo ebollizione e faremo sciogliere i 100 grammi di zucchero nell'acqua dopodiché mentre raffredda aggiungeremo la vanillina andremo poi a mischiare il tutto con l'alcol filtrato andiamo a fare il tutto adesso che si è raffreddato un po andiamo ad aggiungere la nostra bustina di vanillina ecco Grazie. Bene, adesso che tutto si è raffreddato andiamo a colare il nostro alcol direttamente nello sciroppo di acqua e zucchero. Dopodiché appena finiamo di colare iniziamo a mischiare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buonissimo.